Sono uscito da casa mia e ho fatto la strada solita per venire. Sono andato a banchi e poi ho fatto Canneto il Curto. Quando ero in pieno Canneto il Curto, ho sentito due signore non genovesi che parlavano tra di loro, da una parte e l'altra della strada, guardando in su con il naso. E dicevano, ma mi sembra proprio di essere a Venezia. Ora, io non so cosa ne pensiate voi della città in cui vivete. L'analogia c'è, no, non c'è dubbio. Sono due città che sono sorte sul mare, che hanno vissuto per il mare, hanno vissuto del mare, hanno vissuto nel mare. Che siano così, automaticamente intercambiabili, no, e che stando nell'una si possa davvero pensare di stare anche nell'altra, a me, no, a me sembra stravagante. Sembra una cosa stravagante. A parte il mare, no, a parte il mare che le unisce e che storicamente è una delle ragioni della loro vicinanza a rispetto della lontananza oggettiva che le separa, no? Distanza per via di terra, distanza per via di mare. Beh, io francamente non saprei proprio in che cosa queste città possano essere così interscambiabili. hanno avuto storie tendenzialmente parallele in certi momenti, ma che il manufatto urbano sia più o meno interscambiabile e che l'una ricordi l'altra, francamente, mi sembra una corsa in avanti. Una corsa in avanti. Perché vi dico questo? Perché evidentemente questo ribadisce un concetto banale che ognuno dei luoghi, no, si fa un'immagine particolare. Del luogo in cui ognuno di noi vive, dei luoghi in cui ognuno di noi va, toglie, riceve una impressione che è soltanto sua, elaborata sulla base di parametri culturali variamente intesi che fanno percepire la realtà in un certo modo. Queste due signore pensavano in questo modo. Cosa c'entra questo con quello che diremo noi oggi e che spero di potervi fare vedere con le immagini? È che ci sono delle idee molto radicate, no? Molto radicate a dispetto di tutto. Una delle idee molto radicate a dispetto di tutto. Che riguarda Genova è che Genova sia una città, sì importante, sì tutto quello che volete, ma tutto sommato, tutto sommato, diciamo al contrario di Venezia, non prevalentemente caratterizzata nel suo manufatto urbano, da presenze monumentali e nemmeno, no? Dicono i più, da presenze monumentali medievali. Ora, del Medioevo tutti ci facciamo delle idee, no? Ecco. E noi siamo qua in questo contesto, parlare di Genova nel Medioevo, in questi mesi se ne è parlato molto. Ma l'idea che noi oggi percorriamo davvero una città medievale si scontra con la realtà. Non so se ricordate quella canzone di De Andrè, no? Nei paesi dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppo tempo per ha già troppo tempo per parlare la gente ed altri paraggi. Ecco. E poi inizia indicando una serie di personalità. Ecco. Ora, se un uomo del 1300 venisse catapultato nella Genova di oggi, stenterebbe a riconoscerla. Stenterebbe a riconoscerla perché vedrebbe una città diversa da quella che era nel 300. Diversa. Una città molto meno compatta. O meglio, compatta ma con grandi spazi percorribili. Le logge. Avete mai fatto caso che nei vicoli, no? Nascondono sempre sotto le pareti delle case dei resti medievali, colonne, arcate, più o meno bianche e nere. Ecco. In corrispondenza di questi luoghi, che sono centinaia all'interno della città, si apriva normalmente una loggia che stava al piano terra degli edifici. Per cui la percezione dello spazio che aveva un passante di uno dei vicoli, San Bernardo, facciamo conto, dico San Bernardo, sarebbe stata molto diversa. Si sarebbe arrivati normalmente ad avere ai lati il triplo della larghezza della strada attuale e arrivando ad un crocicchio, addirittura il sestuplo, no? Per cui un incrocio su via San Bernardo sarebbe stato molto, ma molto vasto in orizzontale. D'altra parte, i palazzi, tutti, sarebbero stati di almeno un terzo, ma forse anche di più, più bassi. Per cui il sole del buon Dio, di De Andreiana Memoria, in realtà nel Medioevo entrava nella città molto più di quanto non ci entri dalla metà del Cinquecento fino ai giorni nostri. E quindi noi abbiamo un'immagine della città e pensiamo che questa immagine sia medievale. Ciò che a noi sembra più medievale, no? Il buio, l'oscurità, l'arrebigamento, parliamo di Genova, usiamo, come dire, permettiamoci anche un'espressione di questo genere, non è un tratto della città medievale, è un tratto della città moderna, di età moderna, quando Genova è diventata una città di palazzi. Non che prima non lo fosse, non ne avesse, ma erano palazzi costruiti diversamente, che davano allo spazio urbano una diversa dimensione. Perché vi ho detto questo? Perché un'altra delle idee, un'altra delle idee che quando io ho incominciato a studiare il Medioevo a Genova, e vale a dire negli anni negli anni settanta, quando facevo l'università, è che Genova sia, dal punto di vista figurativo, una città stitica, no? Una città limitata, che gli edifici fossero prevalentemente privi di decorazioni pittoriche, no? E anche questa è un'idea sbagliata, un'idea sbagliata. Intendiamoci, si avevano buone ragioni per pensare che fosse così, perché la trasformazione del manufatto urbano aveva trasformato anche le chiese, no? Aveva trasformato anche le chiese per cui la pelle più antica dipinta degli edifici medievali, col passare dei decenni e poi dei secoli, giaceva nascosta sotto strati di intonaci successivi. Quattrocenteschi, cinquecenteschi, seicenteschi, settecenteschi, no? Non che tutte le case o i palazzi genovesi di quel momento potessero vantare una stratificazione analoga, ma molti sì, molti sì. Se voi andate, che so io, in piazzetta in piazzetta Embriaci, vi guardate attorno, vedete dei palazzi con loge trecentesche, palazzi con loge del XII secolo, un palazzo con quanto resta ancora di affreschi quattrocenteschi, con torri e cose di questo genere. Quindi, quando io andavo all'università, non si studiava molto l'arte medievale a Genova, con l'eccezione di un ristretto numero di persone che si raccoglieva intorno a una figura che in quel momento era la figura significativa del Medioevo, Colette du Furbozzo, che si è sempre però occupata di architettura, no? Per cui gli studenti studiavano molto più l'architettura medievale, romanica, gotica, che non la pittura e le altre arti figurative. E questo, in sostanza, cioè per questo, per questo, come dire, la cultura figurativa medievale, pittorica, genovese, non aveva quella che noi oggi definiremo una promozione esterna, no? Una promulgazione esterna. Qualcuno, o perché ha detto più o meno ai lavori, o perché curioso, non saprei dire, andava in giro e vedeva certe cose. Ma il grosso, cioè la percezione che a Genova esistesse un tesoro di dipinti, questo non faceva parte del senso comune, no? Del senso comune della città, se così posso esprimermi. A dispetto del fatto, a dispetto del fatto che, entrando in cattedrale, un uomo, una donna degli anni 60, 70, 80, guardandosi attorno, potesse vedere, come oggi si può vedere molto meglio dopo i restauri realizzati negli anni 70, 80, così, affreschi, anche di dimensioni grandiose. Anche di dimensioni grandiose. Chi entri nella cattedrale oggi e non si limiti a guardare davanti ai suoi occhi verso l'abside, la comunicazione è terribile. Sembra che non arrivi la mail. Va bene, vedremo. Allora, stavo dicendo, chi entri nella cattedrale e si volga alle sue spalle vede un grandioso, enorme affresco sopra il portale principale. Un affresco grandioso, non soltanto in termini puramente dimensionali, ma in termini culturali. Un affresco che parla, davvero in maniera alta, elevata, delle relazioni culturali, e non solo quelle, naturalmente, le relazioni culturali sono sempre l'effetto, o quasi sempre, insomma, non stiamo a fare i talebani, l'effetto di relazioni strutturali di altro tipo. Cioè, della relazione, del link privilegiato tra Genova e il Mediterraneo orientale, bizantino, nel due primo trecento. Cioè, opere che un pittore della corte di Costantinopoli intorno al 1313-15, dopo aver realizzato a Costantinopoli, realizza con la stessa tecnica, lo stesso gusto, la stessa iconografia, le stesse tinte, gli stessi tipi di colori, le stesse tecniche di realizzazione, qui a Genova, per assolvere ad esigenze di tipo di politica culturale, diremo noi, che in quel momento a Genova erano pressanti. No? Erano pressanti. Se voi entrate nella cattedrale, facciamo diventare questa tragedia organizzativa, di cui sono io il responsabile, proattiva. Ecco, andate in cattedrale e, dopo aver dato un'occhiata sopra la vostra testa, guardate alla vostra sinistra. Alla vostra sinistra voi vedrete un tritti, quanto resta di un trittico ad affresco, realizzato sempre da questo grande pittore bizantino, che rappresenta tre santi genovesi. Al centro un grande San Giorgio col drago, nell'atto di uccidere il drago, a sinistra di chi guarda, cioè alla destra di San Giorgio, un San Pietro. Alla destra di chi guarda, invece, un San Giovanni Battista. San Giorgio, San Pietro, San Giovanni Battista, tradotti in figure grandi una volta e un terzo, più o meno, il naturale. Quindi grandi figure, imponenti, no? Composte in una struttura atrittico, come di norma si fa per la pittura su tavola, solo che quello non è una pittura su tavola, è un affresco. Questi affreschi vengono realizzati alla fine di un percorso di lavori che seguì un evento sciagurato, l'incendio della cattedrale, no? A fine 200. Un evento sciagurato perché la cattedrale fu quasi distrutta. Quell'evento venne vissuto dai cittadini come un evento epocale, sconvolgente, e come un segno, no? Come un segno che la discordia civica che in quel momento si era instaurata perché la distruzione della cattedrale era avvenuta nell'ambito dei conflitti diretti, no? Scaturiti tra le due fazioni, diciamo così, guelfe e ghibelline dell'aristocrazia dominante, bisognava rimettere, no? Rimettere in sesto questa situazione, quella situazione che stava portando Genova al tracollo politico. Al tracollo politico. Quegli affreschi sono fatti per dire ai genovesi qualcosa di molto preciso. Per essere di nuovo la grande città che dovete essere dovete riscoprire l'unità, l'unità tra di voi. Dovete essere uniti. Dovete essere uniti come è unito nel reliquiario della sua cappella il corpo di San Giovanni Battista. Il corpo di San Giovanni Battista, contenuto nel reliquiario duecentesco, che un tempo si trovava nella cappella dietro l'altare sinistro della cattedrale, era inteso come l'emblema della città. I frammenti bruciacchiati del corpo e delle ossa di San Giovanni Battista, recuperate in Asia minore e portate poi sulle navi a Genova, erano visti come l'emblema dei singoli elementi, gli uomini, gli individui, che costituiscono il corpo sociale. Come quelle reliquie sono contenute unitariamente in quel reliquiario, così i genovesi dovevano tornare ad essere uniti, unificati in un corpo sociale unico, nel nome dei suoi tre maggiori santi protettori. Il Battista, appunto, Giorgio, che era, lo era stato molto probabilmente da un'epoca terribile, quella del Tardo Antico, dell'Alto Medioevo, quando Genova era una piazza forte bizantina. E poi terzo San Pietro. Non tanto e non soltanto per il fatto che San Pietro è San Pietro, cioè il principe degli apostoli. Ma in quel caso San Pietro è rappresentato come un santo rifondatore di Genova. Diceva una leggenda che, come la Maddalena e Lazzaro di Betania, si sarebbero allontanati dalla Palestina, sarebbero arrivate in Camargue, poi sarebbero salite su fin verso Augusto Dunum, Ottain, e fondato il primo centro cristiano in Francia. Così, a Varatella, nella riviera di Ponente, sarebbe sbarcato altrettanto miracolosamente San Pietro, che poi sarebbe venuto qui e avrebbe fondato la diocesi genovese, che quindi sarebbe stata una tra le più antiche del mondo e senz'altro di diretta derivazione apostolica. Perché vi racconto questa storia? Per dirvi che le immagini, in una Chiesa medievale, sono non il superfluo, ma una parte del necessario. Le immagini sono qualcosa che, sotto la guida di qualcuno che ve le sa decodificare, diventano strumenti potenti di comunicazione. Per cui non sono orpelli, divagazioni, abbellimenti, o meglio, non sono soltanto questo. Servono a tante cose. In questo caso, a rinsaldare, a ricompattare qualcosa che non era più coeso. A ritrovare una compattezza che si era, nei decenni immediatamente precedenti, e in forma terribile. Gli scontri di fine 200 avevano manifestato, queste opere sono necessarie. Allora, non ci stupiremmo se, dall'altra parte, nell'altro muro opposto della cattedrale, lì ci vuole un po' più di acribia visiva. Bisogna stare un po' più attenti, perché chiunque entri dal portale e guardi su, a meno che non sia orbo o cieco, vede gli affreschi. Li vede anche questi della navata sinistra. Quelli della navata a destra sono in alto, lassù, e sono molto più antichi di quelli che vi ho detto adesso, di due secoli prima. Quelli sono stati fatti intorno al 1146-1147 e sono il primo esempio della presa di contatto, il primo esempio visibile e noto, della presa di contatto tra Genova, città mediterranea e l'altro da sé. Cioè il mondo, il mondo dell'Islam, che tra undicesimo e dodicesimo secolo dominava, ma già dall'ottavo, nono, decimo, dominava il Mediterraneo. Nel nono, decimo, undicesimo secolo il Mediterraneo era un lago arabo. Era un lago arabo. La talassocrazia, la talassocrazia non l'aveva più la flotta bizantina, ma era stata sostituita, questo controllo del mare, dai musulmani. Bene, quegli affreschi, quegli affreschi ricordano la prima presa di contatto tra Genova, le prime prese di contatto tra Genova e i musulmani, che sono conflittuali, non buoniste, non sono affreschi buonisti, no? Per niente, né politically correct, per niente. Sono affreschi nei quali il nemico, cioè l'Islam, è rappresentato come un mostro, come un drago, come un idra, no? Come un idra. Come un idra dalle tante teste contro la quale un ragazzino da solo va avanti con una picca così, indomito, per conculcare questa bestiaccia che sta lì davanti. Un po' più a destra si scorgono, a chi le sappia vedere, le aste con le bandiere di Genova e questo ci dice, insieme alle scritte che stanno in alto, che cosa è quell'affresco lì? Non è una immagine emblematica come gli affreschi trecenteschi che stanno dall'altra parte, no? Che sono delle allegorie in sostanza, cioè ci sono degli uomini che stanno per dei concetti. Qui sono immagini storiche, commemorative, raccontano degli eventi che sono avvenuti tra il 1146 e il 1147, cioè quando la flotta genovese prende Baracca e Burattini e va a fare la crociata dove vuole lei, non in Oriente, dove c'era poco ormai da guadagnare, ma in Occidente, nelle isole, no? Nelle isole Baleari e nelle zone della Spagna musulmana, ricche, no? Ricchissime. Bene, di quella vicenda e del grandioso bottino che ne venne ai genovesi, con parte del quale molto probabilmente si poteranno costruire le mura realizzate otto anni dopo questi eventi, beh, in questo caso ci stanno parlando questi affreschi. Anche in questo caso, vedete, si tratta di opere di pittura che non sono solo decorazione, ma che sono soprattutto, no? Che sono soprattutto memoria resa visiva, informazione, esortazione, esortazione all'unità contro l'altro, contro l'altro. Per questo vi dico che non sono affreschi buonisti, sono affreschi che presentano Genova come una potenza pugnace, pugnace che si fa rispettare nel nome del vero Dio nell'ambito del Mediterraneo. Un'altra delle, un'altra delle, dei luoghi comuni è quello che a Genova non ci siano mosaici. Questo, ah scusate, no, prima di arrivare a questo devo dirvi un'altra cosa. Abbiamo parlato fino adesso della sfera pubblica, no? Della sfera pubblica. Guardiamo un attimo alla sfera privata. Anche in questo caso, anche in questo caso, ci sono notevoli resti di ciò che alle pareti delle case, naturalmente non dei poveri Cristi, delle case delle persone abbienti della città del dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo secolo. C'era. Ecco. Se io avessi fatto questa, disgraziata, per le ragioni che sappiamo, conferenza, quarant'anni fa non avrei potuto dire praticamente niente. Cioè avrei potuto dire, ma c'è il problema e mi sarei fermato qui. Ma da quarant'anni, cinquant'anni a questa parte, come molti di voi sapranno, il centro storico è molto cambiato, no? Cioè ci sono stati, nell'ambito dei palazzi antichi del centro storico genovese, molti interventi di risanamento, di ricupero, che non sempre hanno distrutto tutto ciò belluinamente, tutto ciò che stava all'interno per fare presto. Molti dei proprietari, trovandosi davanti a manufatti inattesi, li hanno conservati. Si sono trovati davanti agli occhi pareti affrescate, pareti affrescate, soffitti con travature dipinte, no? Scene, non strane, ma che uno non saprebbe lì per lì ben classificare, finte tappezzerie, finte tappezzerie con uccelli che si sbaciucchiano, no? Ecco. Resti evidentemente di spazi del vissuto, no? Spazi della vita di gente di alto tenore sociale. Naturalmente i poveri Cristi non si facevano affrescare le camere da letto, no? Quando si sposavano con le immagini di due piccioncini che si sbaciucchiano. Ecco. Ma in piazza, come si chiama? Uno di questi palazzi della... Oh, mamma mia. Di uno dei vicoli scendendo giù da via Garibaldi. Quattro canti di San Francesco, poi la piazzetta là in fondo, come si chiama? Cosa? Posta vecchia, ecco. Lì, in quella zona, sorgeva una di queste case. Una di queste case che aveva all'interno questi affreschi. Immagini di questo genere, immagini di questo genere, si trovavano anche all'aperto, rappresentate non in pittura, in questo caso, ma in scultura. Se voi andate in via San Bernardo, al numero 18, se ben ricordo, presso l'incrocio, dove c'è la famosa... il famoso negozio di... ecco, Torrielli, no? Torrielli. Non faccio pubblicità, però lo conoscete tutti. Ecco. Quindi, ecco lì, se voi guardate, ci sono i resti di una enorme loggia duecentesca, con dei grandi capitelli, grandi così, che rappresentano dei leoni e delle leonesse. Questi leoni e queste leonesse hanno dei genitali in evidenza sperticata, no? Cioè, le poppe delle leonesse sono gonfie di latte. I membri virili dei leoni sono membri virili dei leoni. Ora, è chiaro che non si fanno, non si spendono soldi per fare le beffe alla gente o per dire no. Evidentemente, sono lì per celebrare in maniera evidente un matrimonio, no? Un matrimonio che si spera benedetto da molta numerosa, no? Prole, dei rampolli di due famiglie. I rampolli di due famiglie che si sposano e vanno a prendere dimensioni lì, a prendere casa lì. Chissà cosa aveva i piani superiori quella casa lì, se ha i piani inferiori a delle sculture che sono state realizzate da una delle maggiori botteghe di scultori attive intorno al 1195, perché il primo documento che citi quella loggia del 1195, dalla bottega di Benedetto Antelami, che era il più grande scultore del nord Italia un po' prima e un po' dopo l'anno 1200. Ecco, adesso vi faccio vedere… abbiamo parlato della città. ci sono brani affrescati o cicli di affreschi dappertutto a Genova, dappertutto. Basta andarli a cercare. Oddio, in qualche caso, come vedremo, voi li andate a cercare nel luogo in cui si trovano e vi dicono che non è possibile vederli. E questo è un guaio, è un guaio. Magari di questo si parlerà nella tavola rotonda che ci sarà dopo. Ecco, uno dei problemi è appunto quello dell'accessibilità. Ma per adesso lasciamo perdere. Qui siamo, non si vede molto bene, ma siamo a San Siro di Struppa, ve lo assicuro. Sapete dov'è San Siro di Struppa? No, alla fine della conurbazione genovese verso nord. verso nord. In piena campagna, un posto bellissimo, io ci ho abitato per anni. Credo che abitassi in questo gruppo di case qui. Magnifico. Bene. È una chiesa romanica del primo dodicesimo secolo, una tra le più antiche chiese che siano stati realizzati dai magistri antelami venuti dalla Valle d'Intelvi, dopo il loro insediamento come corporazione con una privativa per quanto riguarda la costruzione di edifici sfruttando le cave di pietra di promontorio che erano nell'ambito cittadino. È stata, ha subito di tutti i colori, anche restauri non propriamente ben riusciti. All'interno, questa è la porta d'ingresso e questa è la pianta della chiesa. Nel punto esattamente indicato da questa freccia, qui, questo è uno spaccato della chiesa, questo è l'interno, qui ci sono due brani, due dipinti, due brani dipinti che sono evidentemente il resto di una decorazione architettonica molto più grande dipinta sul muro che conteneva delle figure di santi. Manco a dirlo, grazie al cielo, questo medaglione di intonaco rimasto, un intonaco che io credo sia della fine del XII secolo, rappresenta, guarda caso, San Giovanni Battista, che era rappresentato molto probabilmente a tutta figura, con i suoi capelli scarmigliati, con la barba, con l'abito, chiamiamolo così, di pelo di cammello. Ecco, bene, era una grande figura accolta sotto il disegno di arcate con finte pietre preziose dipinte in colori rossi, verdi, azzurri. Di tutto questo resta pochissimo, però chi ci vada tra il contesto, tra il contesto, le caratteristiche dell'architettura e il dipinto ha delle sorprese, ha delle sorprese. Mi sono imbrogliato? Oggi non è proprio cosa, eh? Siamo in San Giovanni di Pre. Ecco, in San Giovanni di Pre. San Giovanni di Pre è piena di gli affreschi che si vedono, che si potrebbero vedere, che non si vedono per ragioni. Tutti sapete dov'è San Giovanni di Pre, no? Era alla fine della città medievale. La città del XII secolo finisce con Via delle Fontane, Porta dei Vacca, e al di là c'erano questi prati, predii, no? Da cui pre, che poi non si direbbe pre, ma pre, da prati, prata, no? Ecco. Quindi lì sorge questo magnifico, questo magnifico edificio, un centro internazionale in cui convengono dal nord i pellegrini e da cui gli stessi partono per le rotte del mare verso la Palestina, sperando di tornare un giorno, ecco, con un fondatore nel 1180 che si fa ritrarre, ed è uno dei più antichi ritratti medievali che ci siano a Genova. Forse, anzi, senz'altro è l'unico datato 1180. Questo è il fondatore, il cavaliere dell'ordine di San Giovanni di Gerusalemme, che aveva fondato questo centro per il ricovero dei pellegrini. Forse erano tra questi Simonetta e Percivalle Lercari, che muoiono ad agosto, il 16 di agosto, insieme, in quel luogo lì, tutti e due, simultaneamente, chissà perché. Erano andati in Palestina ed erano tornati malati, come spesso accadeva, avendo bevuto acqua putrida e quindi magari erano morti di dissenteria fulminante. Oppure avevano preso il contagio lì, nell'ospitale, dove, appunto, qualche pestato dalla Palestina aveva portato qualche schifezza a Genova. Non lo dei tesori più magnifici del Medioevo genovese, che oggi è in mostra al Museo di Sant'Agostino. Ma non è un... come vi dicevo, San Giovanni di Pre è piena di affreschi. Nella Basilica Inferiore, nella Basilica Inferiore, ci sono addirittura due cicli di affreschi. Uno in una cappella della zona absidale, della fine del XII secolo, opera di un pittore francese, che realizza queste cose. Sono abbastanza sbiaditi. Sono storie di Santa Margherita, Santa Margherita d'Antiochia. Quindi Santa Margherita d'Antiochia è stata ipermartirizzata. Cioè, prima di ammazzarla gliel'hanno fatte di tutti i colori. E qui, con precisione, con scrupolosa e enciclopedica precisione, sono raccontati tutti i martiri di questa povera martire. No? Ecco. Ad opera di un pittore che non era genovese. Almeno, se era genovese, non ha mai lasciato tracce. Ma era... si era ispirato alla miniatura, più che alla pittura, francese di quel momento lì. Era un centro internazionale. Magari era venuto, era arrivato anche qualche pittore che aveva potuto lavorare. Chissà, magari per pagarsi il viaggio? Non lo sappiamo. Ecco, qui vedete altri soggetti. Angeli. Lassù, altre figurazioni. Ecco, qui scene di martirio. Ecco. Nella chiesa inferiore di San Giovanni di Pre, esattamente, questa è una pianta settecentesca, ma insomma, in questo punto qui, qui c'era un'apertura che c'è ancora oggi. Metteva in comunicazione la chiesa inferiore con le parti delle sale dell'ospitale. Non l'ospedale, come diremmo noi, ma l'ospitale, dove venivano ospitati i pellegrini. In questa zona qui c'era l'altare. Nella volta sopra l'altare c'erano e ci sono affreschi. E così come affreschi sono nella parte al di là, quella dell'ospitale, della sala della quale vi parlavo. Ecco. Questi affreschi sono lì e non lì. Io li ho pubblicati a un certo punto, ma fino a quel momento non erano mai stati percepiti da nessuno. Non avevano mai fatto storia dell'arte. Non so se vedete. C'è questo grande gallone, largo così, che doveva andare su verso l'alto. E qui, vedete, c'è la testa di qualcuno, eccolo, vedete qua, che tiene le mani. Guarda verso l'alto e tiene le mani così. È un brandello di una grande composizione ad affresco, io credo di una crocifissione, con questo che potrebbe essere un San Giovanni evangelista che sta guardando il Cristo morto e lo sta implorando. Guardate come è elegante questo grande gallone pittorico realizzato ad affresco e guardate come assomiglia, come assomigliano quei motivi a quelli che sono sopra, realizzati in tutt'altro materiale, la cappella, l'archetta delle reliquie di San Giovanni Battista. Nelle parti aggiunte nel 1215-1220 ci sono motivi analoghi a quelli. Potrebbero essere quindi quelli là freschi del primo XIII secolo. Ecco qui li vedete, vedete che c'è un gusto abbastanza analogo che lega queste parti alla miniatura, alla miniatura del nord della Francia. In un centro di comunicazione così internazionale come è San Giovanni di Pre, questi contatti non sono incongrui. adesso i più belli. Questa è la Chiesa superiore, questa è la Chiesa inferiore e questa è la volta. questa è la volta vista dal basso. Al centro vedete ci sono queste finte nervature, ci sono quattro vele che si intersecano, le nervature non esistono, sono pittoricamente delineate, in modo che in ciascuno di questi triangoli vengano rappresentati dei serafini, degli angeli, cioè gli angeli cioè che sono più vicini a Cristo. Serafino qui, Serafino qui, qui e qui, e al centro Cristo sotto la figura, quella forma dell'Agnus Dei, dell'Agnus Dei, qui dò gli peccata Mundi, affreschi che probabilmente si datano intorno alla metà anni 40-50 del XIII secolo e che sono stati realizzati in un momento in cui il governo della città era in mano alla parte popolare, quella che aveva come emblema, e che lo faceva imprimere anche sulla monetazione, dell'Agnus Dei. L'Agnus Dei inteso come emblema della pacificazione civica raggiunta tra le fazioni. Bene, questi affreschi voi potreste in teoria andarli a vedere domani, ma se voi domani vi presentate lì, vi dicono che non è possibile, che non è possibile andarci perché in tutto lo spazio della chiesa inferiore si fanno delle attività encomiabilissime, senza dubbio, che riguardano la Caritas, che tutte cose, o la comunità di Sant'Egidio, non la Caritas, si distribuiscono cibari e altre cose di prima e seconda e terza necessità, però probabilmente sono cose che si potrebbero fare anche in altri luoghi, no? E questo luogo potrebbe essere, potrebbe, dovrebbe essere recuperato proprio perché è uno spazio medievale intatto, con affreschi intatti, no? Con affreschi intatti, che poi è inutile dire che la città, in città non ci sono affreschi quando quelli che abbiamo non li rendiamo visitabili. Quindi questi affreschi, no? Questi affreschi sono eccezionali, di grande importanza e hanno un carisma di indubbia unicità. Qui ne vedete un'altra immagine un po' più bella, sono un po' più così che come prima, vedete che sono e sono imponenti anche come dimensioni. Qui vedete un po' meglio la Newsday. ecco, assomigliano molto ad altri affreschi che, con i diaconi, che si trovavano in un altro luogo che adesso vi farò vedere. Ah no! Questa è una cosa, vi sfido in maniera esperienziale. Conoscete San Marco al Molo? Conoscete San Marco al Molo? Questo è il bastione cinquecentesco, dietro c'è la chiesa del dodicesimo secolo. Quando voi entrate in San Marco al Molo, entrate dall'abside, no? Perché la chiesa nel Cinquecento è stata rivoltata, per cui voi entrate da quella che era l'abside maggiore, trasformata, vabbè, e percorrete la chiesa al contrario. La chiesa è ricchissima, è piena di bellissime pale, sei settecentesche, una più bella dell'altra, quindi varrebbe la pena di andarci, non fosse altro che per quello. Ma se voi andate dietro l'altare, vi infilate dietro l'altare, vedete? Questi sono i leoni. Ecco, e nel punto indicato dalla freccia, vedete quest'immagine. Forse bisognerebbe chiudere un po' le porte per vedere qualcosa. C'è un volto maschile o femminile coronato contro uno sfondo di una sorta di spazio privilegiato contro il quale la figura si staglia con queste bordure gialle e rosse alternate. Chi è questo re coronato? E poi, quello che io vedo, che cos'è? È quello che c'è o quello che io ci metto? Io non sono riuscito neanche bene a capire se questo sia un uomo o una donna e se quella che sembra la barba in realtà non siano lacune. Ecco, qui siamo proprio all'estremo limite della riconoscibilità. È venuto fuori e però c'è. Ed è un documento del XIII secolo che una sua importanza ce l'ha. È possibile che questa cosa qui, che sembra la testa di un bambino, sia un bambino? Oppure è semplicemente il gioco delle macchie, delle lacune che ci fa intendere qualche cosa, ci fa vedere qualcosa che in realtà non c'è? non lo so. Io non sono riuscito, l'ho studiato, ma più di tanto non sono riuscito ad andare avanti. Ecco, poteva essere una cosa del genere, come questi affreschi, questi affreschi del Carmine? Chi lo sa? Il confronto che io vi faccio, sul confronto che io vi faccio non scommetterei un soldo bucato. Ve li faccio vedere per dirvi questa potrebbe essere una possibilità, ma non dite a nessuno che ve l'ho detto io. Ecco, andiamo dall'altra parte della città. Qui siamo in Albaro, a San Francesco d'Albaro. San Francesco d'Albaro c'è una bella chiesa romanica, Santa Maria del Prato, una chiesa monastica della seconda metà del XII secolo, fine del XII secolo, dal 1184 in avanti dovrebbe essere stata realizzata, se ben mi ricordo. Ne ha subito di tutti i colori, è stata bombardata nella seconda guerra mondiale ed è stata poi rimessa insieme in modo, diciamo, un po' avventuroso dai restauratori. Vabbè, però nel portale c'è una lunetta, nella lunetta c'è un affresco su muro. Questo fresco su muro è ancora ben leggibile. Quasi nessuno la vede. Io vorrei essere lì una domenica mattina a intervistare quanti vanno a messa in Santa Maria del Prato e verificare quanti alzino lo sguardo a quell'immagine e se ne ricordino, perché, come saprete, non c'è niente di più nascosto di ciò che è sotto gli occhi di tutti. Se vuoi nascondere una cosa, mettila sotto gli occhi di tutti. Bene, questa, anche questa, fino a epoche molto recenti, anche quest'opera era assolutamente trascurata. Questo è l'interno della chiesa, ecco, questa è la lunetta. Vedete, ha patito molto, ma è una bella madonna di stile senza dubbio bizantino, bizantino, alle spalle del quale ci sono modelli bizantini. Una madonna col bambino è una madonna odighitria, perché, vedete, la madonna sta facendo così, sta indicando il bambino che è la odegos, cioè la via per la salvezza. Vi sta dicendo, non è a me che dovete rivolgervi, è a lui, perché lui è la via, la verità e la vita. Da un lato e dall'altro ci sono due angeli ad ali spiegate, vedete, multicolori, molto rovinato, ma non tanto che non sia possibile incasellarlo in un ambito culturale che molto probabilmente è quello della cultura pisana, del primo duecento. Un momento in cui a Pisa arrivano una quantità, una vera e propria quantità di dipinti su tavola di provenienza costantinopolitano e che trasformano all'improvviso, all'improvviso, il gusto della committenza locale. Buona, seconda, terza, quarta, anche Genova, a un certo punto, risente di questo fenomeno, che è un fenomeno che non coinvolge soltanto Pisa e Genova, ma coinvolge un po' tutta l'Italia. Era stato quello del bizantinismo uno degli elementi unificanti della cultura figurativa del Mediterraneo, diciamo, tra il IX-X secolo e questo momento. Pensate che nel VII secolo le classi dirigenti a Roma parlavano greco, per cui se tanto mi dà tanto, l'impatto. Queste immagini sono quelle che poi si svilupperanno, ma questa è semplicemente una suggestione. Ve ne faccio vedere, ma non perché ci sia un rapporto tra le due, ma perché uno, un altro modo ad un altro livello di tener conto dei modelli, degli stessi modelli, è quello, no? È quello di Cimabue, nella Grande Pala, nella Grande Pala Pisana, che vedete qui. Certo, sarebbe meglio avere la tavola di Cimabue, piuttosto che la lunetta di Santa Maria del Prato, noi a Genova, però purtroppo non si può avere tutto. Forse questo personaggio era un personaggio legato a questo pittore qui, Enrico di Tèdice, che è soprattutto noto a Pisa per la sua facondia di realizzatore di croci dipinte. Guardate questo, questo confronto, insomma, un minimo di plausibilità ce l'ha. E vi dice, ecco, vi dice, in che ambito culturale questa lunetta di Santa Maria del Prato navighi. Io a questo punto credo di avere parlato per un'ora. Ecco, forse potrei anche interrompermi. chiedo a voi se ci sono domande intanto. I mosaici, giusto? Allora, se voi aveste preso una guida a voi. Allora, se voi aveste preso una guida. 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 Va bene, niente. I mosaici, tanto volevo dire solo una cosa, che è questa. Allora, se voi aveste preso una guida di Genova degli anni 60-70 e con quella vi foste addentrati nel centro storico, voi a un certo punto sareste arrivati davanti a San Matteo. San Matteo, la piazza di San Matteo, è logisticamente sempre stata fortunata. Anche quando a Genova i turisti non venivano, beata tempora, quando non venivano, in piazza San Matteo qualcuno, come diciamo a Genova, di Riffa o di Raffa, ci veniva, andava a guardare questo luogo che era presentabile. Io non so se voi ricordate com'era nel 1975, se così, piazza San Lorenzo. Un bivacco di manipoli, tutto grigio, con gli autobus che andavano in su e in giù, macchine dappertutto, la facciata della cattedrale scura. Ecco, San Matteo era protetta da tutto questo, però, senz'altro, l'intorno era molto meno gradevole di quanto non lo sia oggi. Se voi aveste un po' guardato la bibliografia, in quegli anni lì, voi avreste trovato su questi, su San Matteo e le sue opere d'arte, un unico articolo. Ad opera di una personalità del mondo culturale genovese, che si chiamava Caterina Marcenaro. Caterina Marcenaro era allora, dal punto di vista culturale, una delle figure più in vista della città. Giustamente, perché aveva curato la trasformazione dei musei, di quelli che oggi noi chiamiamo i musei di Strada Nuova, i musei del Comune di Genova, dopo la spaventosa parentesi della guerra. Palazzo Bianco, nel 1945, era un dente cariato, no? Era un dente cariato. Alcuni dei palazzi di Via Garibaldi saltati in aria, saltati in aria, no? Chi vedesse oggi i documentari girati in quel momento, e fosse a cena e guardasse la televisione nello stesso momento, avrebbe il cibo che si bloccava sullo stomaco. Da vedere cosa era Via Garibaldi, che cos'era il Palazzo dell'Accademia, che cosa era il Carlo Felice. Insomma, quella era la situazione, no? E come sappiamo, questi vulnera al tessuto sono rimasti a lungo aperti in città. Chi avesse preso questo testo di Caterina Marcenaro, avrebbe trovato una frase di questo genere. Il più volte rifatto mosaico medievale che occupa la lunetta della chiesa di San Matteo, con un San Matteo a mezza figura. Ora, tutti sarete andati in San Matteo, e quel mosaico c'è ancora, non solo, ma essendo stato restaurato vent'anni fa, lo si è esaminato da vicino. E si è capito che il tasso di genuinità delle tessere usate lì era il 99%. C'erano soltanto delle lacune nel fondo. C'era un unico mosaico visibile a Genova negli anni 60-70, e quell'unico mosaico veniva giudicato, rifatto, senza una ragione al mondo. Senza una ragione al mondo. Non solo. Quando negli anni 90 la soprintendenza, avrei dovuto premettere un invece, invece, quando negli anni 90 la soprintendenza decise di intervenire, grazie all'impulso, lo voglio citare, dell'allora responsabile di zona, il dottor Piero Donati, si fece venire a Genova l'Istituto, l'Oppificio delle Pietre Dure, che constatò quanto si vedeva. E cioè che tutto quello che si vedeva era genuino. Quindi noi a Genova avevamo un magnifico mosaico intero, del 200, della metà del 200. Non era il primo mosaico che stava lì dentro. Dentro la Chiesa ce n'era stato un altro fino al 200, quando tutta la parte posteriore della Chiesa del XII secolo era stata tagliata alla base e spostata verso Occidente. Cioè, una cosa incredibile, no? Si era tagliato l'edificio e la tribuna, cioè la parte absidale, era stata spostata in là. E questo era stato fatto, dicono gli annali, per conservare il Cristo che era conservato in questo, in questa abside, in questo catino absidale. Questo ci dice, da un lato, che noi abbiamo un'opera molto significativa, dall'altro che abbiamo perso tanto. che abbiamo perso tanto. Abbiamo perso tanto in epoche antiche e abbiamo perso tanto anche in epoche molto recenti. E questa è l'ultima cosa che davvero vi faccio vedere. Qui siamo a San Fruttuoso. Questa è la Val Bisagno, nel 1822. La Foce, quindi Genova era così. Qui siamo a San Fruttuoso. Questa è la chiesa di San Fruttuoso, che oggi non esiste più. Questi sono i resti della chiesa di San Fruttuoso, una chiesetta romanica. Questa è la piccola abside di San Fruttuoso, che oggi non esiste più. sopra la collina esistevano, che oggi è l'ospedale San Martino, c'erano i resti della casa dei Boccanegra, poi bombardata, poi ricostruita. In quella zona lì si ricostruì, a partire dagli anni 40-50. Per ricostruire si atterrò tutto quello che c'era. Si atterrò anche quello che vedete qui. Questa è una foto degli anni, dei primi anni 50, che vi fanno vedere una cosa che oggi non esiste più. Una chiesa, una chiesa. Questa è salita della noce. Questa è salita della noce. In questa zona, al posto di questi edifici, c'era una chiesa, che è questa qui. Qui vedete ancora il portale trecentesco. In questo portale, questo portale trecentesco, questa è l'abside. In questo portale c'era una fresco, con la Madonna col bambino, che lì potete intravedere. Qui ho ingrandito le due metalli, vedete gli angeli. ecco, questo è tutto quello che si può ormai vedere, ma vedete che si tratta di una Madonna medievale, 1340, 1350, 60, così. E questo angelo, lo stesso. Questi sono dei dettagli, il bambino. qui vi ho proposto un'immagine che è più o meno degli stessi anni, che vi può dare l'idea un po' dei colori. se notate, gli affrecchi, ce n'erano altri. In questo catino obsidale, qui alla base, c'era una teoria di Santi. una teoria di Santi che venne completamente rasa al suolo. Praticamente, io credo, dalla sera alla mattina. con questa nota dolente e questi vennero completamente atterrati, cioè sono stati sbriciolati. Queste fotografie sono l'unica cosa che resti di questo complesso, di cui ormai, appunto, si era anche decisamente perduta la memoria. Ecco, questa è davvero l'ultima cosa che vi faccio vedere. Ecco, qui, scusate, qui siamo a Sturla, siamo a Sturla. Stiamo scendendo, questo è il Carlini, stiamo scendendo, questa è la vecchia parte di Sturla, qua c'è la Marina. Se voi prendete, scendete qui, dal crocicchio in cima, insomma, dove c'è via Caprera e poi a destra si scende a Sturla e poi entrate dentro in macchina dove c'è il distributore di benzina per arrivare poi alla Marina, ecco, voi a un certo punto vedete questo arco d'ingresso. Entrate qui e vedete un edificio che non riuscite ben a capire cosa diavolo sia, un po' vecchio, un po' nuovo. All'interno è così, una sala, una sala con resti di affreschi alle pareti di tante epoche. In questo, in questa posizione dove io ho evidenziato qui, c'è una fresca con questa cosa rossa, ce n'è uno più antico degli altri. Lo vedete? Sono tre parti di un unico affresco del XIII secolo che rappresentano dei santi vescovi qui e qui e al centro un santo che vescovo non è. San Francesco d'Assisi vedete questo è il santo questo questo è il santo questo è San Francesco d'Assisi con le stimmate nelle mani con il costato tagliato col saio purtroppo manca la parte superiore della faccia. Bene, il pittore che ha fatto Asturla questo affresco su quella che allora era la parrocchiale di Sturla era venuto direttamente da Assisi e aveva avuto sotto gli occhi ad Assisi l'immagine che Cimabue aveva dipinto il ritratto che Cimabue aveva fatto di San Francesco per la cassa mortuaria del santo stesso una una cassa schifosa di legnaccio con un coperchio sopra di legno sopra il quale Cimabue aveva dipinto ciò che stava dentro e come stava dentro. Bene, se voi andate al museo della Porziuncola ad Assisi e vedete questo oggetto che è questo qui che è questo qui voi e poi lo paragonate al nostro questo è l'affresco che c'è nella Basilica Inferiore questa è la figura dipinta da Cimabue questo è di Cimabue questo è di Cimabue ma è dipinto sulla coperta della cassa questo è il nostro genovese voi vedete che tutto ciò che è qui trova perfetta corrispondenza qui le proporzioni sono le stesse identiche quindi quello che ha fatto questo a Genova a quarto voleva produrre lì per una comunità che ci teneva ad avere il vero volto di San Francesco non un volto pur che fosse volevano pregare questo nuovo grande santo ma volevano pregarlo vis-à-vis come avendolo davanti potendolo guardare negli occhi questo pittore che veniva da Assisi era in grado di dargli quello che volevano e come guardate io mi sono mi sono divertito a un certo punto a montare a montare su questa su quel corpo la testa di questi personaggi e tutte le pieghe concidono perfettamente con questo noi siamo nell'ultimo duecento per raccontarvi la storia di qui in avanti ci vorrebbero altri due incontri ma credo che ne abbiate abbastanza vi ringrazio non propriamente tra i santi protettori di Genova cioè non c'è San Pietro ha una venerazione cattolica cioè universale cioè San Pietro è in casa sua in qualsiasi luogo esista una chiesa perché come dice come ha detto Cristo tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa quindi dato per scontato questo ecco ci sono quindi la presenza di San Pietro è legittima in qualsiasi chiesa cristiana di rito latino e di rito greco figuriamoci ma in questo caso San Pietro quel San Pietro lì non è solo il San Pietro di tu Es Petrus dell'ultima cena di tutte queste cose qui è un una sorta di eroe fondatore cioè è colui che dopo l'antico giano al tempo dei romani quello nato dalla progenie dei giganti che fondò Genova al tempo di Abramo come recitano le grandi iscrizioni che ancora si leggono sopra le arcate della nostra della nostra cattedrale riportando questo mito come il primo questo giano aveva trovato Genova partito da Troia era arrivato a Genova l'aveva vista piccola ma l'aveva ingigantita nel nome e nella potenza così San Pietro mille anni dopo in epoca cristiana sarebbe stato il rifondato il secondo fondatore della città intendendo il fondatore della Genova come comunità cristiana cioè un upgrade diremmo noi quella di prima era una città coesa e grandiosa immagine di Roma erede di Troia erede del mito quella di adesso invece è la più antica tra tutte le città cristiane perché fondata da San Pietro direttamente quindi in quel caso San Pietro è se stesso ma è anche un'altra cosa come sempre nell'iconografia cristiana lì e sarebbe anche altre cose ma limitiamoci a queste lì è patrono della città in quanto fondatore del Battistero in quanto arrivato a Genova lui avrebbe eretto il Battistero e avrebbe incominciato a battezzare a Genova i cristiani quindi Genova come comunità cristiana si sarebbe riunita attorno a quello che sarebbe stato di fatto il suo primo vescovo primo ancora prima di andare a Roma ora questo evidentemente è una favola no? non c'è niente che attesti neanche un pezzettino di questa storia di San Pietro eh tuttavia è una di quelle leggende che a Genova avevano fatto storia e come vedete anche immagine cioè a Genova quel San Pietro era un eroe fondatore ha fondato chi è che ha fondato Genova cristiana naturalmente non lo sappiamo e anche pensare a un fondatore è un po' meccanico ma guarda caso questo San Pietro tiene in mano un battistero un battistero ottagono con una cupola e noi sappiamo che fino al 1300 dietro la parete sulla quale quella fresco è stato dipinto agli inizi del 300 esisteva un battistero con una cupola che nei documenti dell'epoca viene chiamata testudo maxima grande cupola grande testugine e gli era figurata in mano ora nel 300 esisteva ancora il battistero paleocristiano non lo sappiamo nel 300 però c'era un battistero lì con una cupola e all'interno del battistero ancora oggi c'è un fonte battesimale che è degli inizi del 500 ma che conserva ad un livello molto più basso i resti di una situazione di una situazione molto molto antica con lastre marmore di origine orientale di reimpiego che possono essere state messe lì in epoche molto ma molto antiche quando è difficile dirlo però ci sono non so se l'ho risposto prego qualcun'altra curiosità facciate dipinte medievali facciate dipinte per medievale che cosa cosa intende allora allora sì quattrocentesche sì che io sappia no che io sappia no all'esterno non mi pare di ricordarne che siano che siano sopravvissuti all'interno sì ma all'esterno all'esterno no quello di cui io parlavo è dopo il 1204 quel momento lì quello che riguarda quello che riguarda Pisa è e riguarda anche in parte Genova è successivo è successivo al primo momento al 1204 quando da Costantinopoli arrivano a Pisa non soltanto pittori di icone e anche icone ma anche scultori anche scultori in marmo che realizzano le porte del Battistero le porte del Battistero di Pisa grazie 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 Buonasera a tutti, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quello ci porterebbe da un'altra parte, però sono riflessioni che dobbiamo sempre tenere bene a mente quando parliamo della città, di quello che è accaduto e che sta accadendo alla nostra città. Grazie a tutti. Una serie di iniziative si sono susseguite nel corso di questi ultimi tempi ed è una prima riflessione che vorrei condividere con i nostri ospiti. Il Comune di Genova ha deciso di dedicare il 2024 all'anno di Genova medievale e la recente apertura di una parte, di una porzione del Museo di San D'Agostino ne è oggettivamente un punto di forza su cui riflettere. Io sono giornalista di Repubblico, sono Massimo Minella e mi presento insieme all'Università di Genova quest'anno abbiamo preparato due, un'iniziativa editoriale che si è tradotta in due volumi dedicati alla Genova medievale. Alcuni degli autori sono qui, anzi tutte le persone che sono al tavolo hanno partecipato a questo progetto. Lo stesso Teatro Pubblico Ligure con cui noi abbiamo collaborato ha varato un progetto dedicato al Teatrum Ecclesia, una riflessione medievale a cui ha partecipato anche il professor Di Fabio. Insomma, e qui chiamo ad una prima riflessione Fabrizio Venente, archeologo, docente di archeologia medievale e prorettore dell'Università di Genova. Ho l'impressione Fabrizio che attorno al Medioevo si è acceso un interesse ancora superiore rispetto forse a qualche anno fa. È una considerazione che tu condividi, c'è una motivazione particolare, sta accadendo qualche cosa giustamente che ridà centralità al nostro Medioevo, fondamentale per capire anche i fasti di Genova. Non ci sarebbe quella Genova che noi raccontiamo, cantiamo e ricordiamo senza la Genova medievale che magari ad un certo punto forse abbiamo un po' dimenticato. La riflessione è opportuna. Dedicare un anno al Medioevo di Genova è stata un'operazione di politica culturale. Le operazioni di politica culturale a cabina di regia politica di solito devono avere una strategia di comunicazione, dei comunicatori di livello, dei soggetti che in qualche modo siano funzionari a un richiamo efficace, degli uomini immagine che riescano a materializzare l'interesse e a in qualche modo incarnare la figura di richiamo per le iniziative. Il mio timore è che all'operazione politica possa non seguire l'operazione di valorizzazione del contesto. Il mio timore è che il sovradosaggio di Medioevo, l'overdose di Medioevo, rischi poi di avere l'effetto contrario, l'effetto non di allontanare ma di cercare qualche cosa di altro e qualche cosa di diverso. E ancora una volta il mio timore è che cosa c'è dopo. Cioè se questo progetto incentrato su un anno intensamente dedicato alla scoperta del Medioevo genovese abbia un progetto che porti nel futuro tutto quello che in questi mesi, in queste settimane abbiamo valorizzato, abbiamo conosciuto, abbiamo promosso, abbiamo fatto conoscere. Ecco, questi sono aspetti fondamentali. Ogni strategia di valorizzazione è fondamentale per dare futuro a un Medioevo fantastico, un Medioevo ricchissimo, a una parte della storia della città che sicuramente può diventare fulcro, volano, ma non solo di tipo economico, non solo di tipo turistico, ma semplicemente nel quadro delle politiche di crescita culturale, sociale, anche un pochino economica di una città. Ora, il bilancio è che sicuramente arrivati a giugno tutti noi sappiamo molto di più del Medioevo di Genova. Tutti noi cittadini, tutti noi, anche l'ampia platea dei non addetti ai lavori, ci sono state le buone relazioni con i quotidiani, le buone relazioni col comune, ci sono state le elezioni di una serie diversa di soggetti, non sempre su un livello qualitativo omogeneo, ci sono stati livelli diversificati e a volte, lo dico così per averne frequentati molti, a volte un pochino stridenti. Però è giusto che ci fosse voce per tutti, non si può negare o non si può limitare la voce. Quello che ne ricavo io, e vado a concludere, è che l'esperienza andava fatta se in questo momento, ad esempio, l'Ateneo Genovese pensa di proiettarsi, l'Università di Genova, pensa di proiettarsi in uno spazio mediterraneo ed europeo come il luogo dove si può studiare la storia dell'arte, l'archeologia, la paleografia, il restauro architettonico, l'archeologia dell'architettura in senso ampio, i modi di costruire, i modi di dipingere, i modi di scrivere e farne scuole, farne un centro vitale di scuola. Ecco, questo lo abbiamo dimostrato, questo è dimostrato. Il problema è di avere la forza, la capacità, l'intelligenza, il sostegno della regione, del comune, del ministero, di progettare veramente Genova come luogo dove si viene a studiare il Medioevo Mediterraneo. Questo vuol dire flusso di studenti, flusso di giovani e di competenze e di docenti, vuol dire seminari, vuol dire incontri, vuol dire formazione, didattica, terza missione, ricerca, valorizzazione e forse vuol dire far diventare, e qui voglio sentire poi Stefano Musso, quei contesti che ancora necessitano di interventi di lestauro, le fabbriche ideali del sapere, dove le nuove generazioni insieme ai docenti, insieme ai professionisti, sperimentano le strategie di restauro e di valorizzazione. Ecco, l'invito è quindi non solo in maniera festivaliera a celebrare l'anno del, è una cosa molto comune in Italia, ma a pensare che dopo l'anno del Medioevo ci deve essere un qualcosa che viene dopo, un qualcosa che rafforza, un qualcosa che ci porta verso un obiettivo che è un obiettivo della città. Io ho questa fiducia, però è un problema di comunicazione ed è un problema di scelte politiche, partendo da un principio molto basilare, molto semplice. Per uno che si occupa della missione di responsabilità sociale e culturale di un ateneo, offrire cultura non deve necessariamente produrre denaro. Offrire cultura è un servizio di crescita che si fa a una comunità, a un contesto, a un territorio ed è sempre socialmente utile. Grazie, grazie Fabrizio, davvero per le tue parole, i tuoi stimoli che ci portano appunto a riflettere, giustamente e complessivamente anche con un po' di timore per quello che abbiamo di fronte, perché sicuramente è stimolante la partenza ed è condivisibile, bisogna capire il punto d'arrivo o i punti di arrivo, gli obiettivi che ci si vuole porre, se non si vuole poi soltanto presentare un medioevo, come dicevi tu, turistico da offrire come uno dei tanti prodotti e pacchetti che la nostra città tende ad offrire, insomma, seguendo anche una certa logica, ma è giusto anche rivendicare, e io dico consentitemi, con un po', anzi con un po' più, con una certa dose di orgoglio, il ruolo medioevale della nostra città, che spesso non viene messo a punto e a fuoco nel modo corretto. Quello che all'interno del Mediterraneo la Genova medievale ha saputo creare, beh, credo che sia stata una lezione unica al mondo. Ora, quel signore che prima ha fatto una domanda ha citato una data e ha detto 1492, che è la data della scoperta dell'America, questo termine occidentale per valutare la storia che passa da un'era all'altra, su cui si potrebbe peraltro discutere. Ci sono altre date che ci traghettano, forse nell'epoca moderna, ancor più della scoperta dell'America. Ma questo ci fa riflettere su una figura che abbiamo studiato di recente, che abbiamo anche riproposto, che è quella di Cristoforo Colombo, che è un uomo del medioevo, che traghetta l'umanità nel mondo moderno. E tutto quanto avviene qui, avviene da Genova, è qui che lui si forma in quest'ambito, in questo contesto. Allora, il ruolo che Genova ha in ambito mediterraneo è straordinario ed è, volendo un ulteriore spunto di riflessione, cioè come continuare a parlare di medioevo esaltando il ruolo di Genova nel Mediterraneo, tema analizzato ma che meriterebbe sicuramente maggiori approfondimenti. Una delle ultime immagini che ci ha mostrato il professor Di Fabio ci fa vedere ad un certo punto, nel periodo della ricostruzione post-bellica, quanto è stato costruito ma soprattutto quanto è stato demolito, senza guardare in faccia a nessuno, come si dice, quanto è stato distrutto che avrebbe potuto essere salvato e quanto poteva essere invece restaurato. Qui chiamo ad una riflessione Stefano Francesco Musso che è docente di restauro alla facoltà, alla facoltà non c'è più, dipartimento di architettura, scuola politecnica qui, quindi andrà gli erzelli anche tu forse, non si sa, vedremo prima del trasferimento. Ecco, una riflessione sulle parole di Fabrizio, anche su questa logica che chiama anche a restauro, a rispondere forse è opportuna. Ecco, credo che sia già appena. Buonasera. Allora, i temi sollevati da Fabrizio, ma ancora prima quelli che ha sollevato anche Clario, sono centrali, però siccome non posso perdere un po' tempo andrò quasi per slogan. Allora, noi possiamo parlare di valorizzazione di un patrimonio se il patrimonio c'è. Quindi il primo obbligo è quello della conservazione, che non vuol dire mummificare, congelare, adorare. C'era un famoso musicista che gli diceva che non si tratta di adorare le ceneri, ma di tenere vivo il fuoco. E se un patrimonio è tale è perché ha ancora un senso e un ruolo nella nostra vita quotidiana, nostra e di chi viene a visitare Genova. Però o conserviamo le cose o anche tutto ciò che nelle cose è inglobato, nascosto, trasmesso, eccetera, va perduto. Questo implica una cura, una scelta politica, dove indirizzare le risorse. E qui andiamo ad altro tema. Se lo consideriamo patrimonio, vuol dire che per noi ha un valore. È per quello che io non amo il termine valorizzazione, proprio perché il rischio è quello di declinarla solo in termini di vendita, di brand, di pubblicità, di comunicazione, di consumo veloce, fuori del tempo, fuori dallo spazio. Però usiamolo perché è invaso nell'uso comune, però una corretta valorizzazione non volta solo a vendere qualcosa, l'ennesimo pacchetto ai nuovi turisti che arriveranno, deve di nuovo mettere al centro la conoscenza, la comprensione e l'uso corretto di queste risorse. Quindi benissimo la sollecitazione di Fabrizio, usiamo le fabbriche, quante ne abbiamo abbandonate, non utilizzate, male utilizzate, come luogo in cui il patrimonio non viene solo visto, guardato, ammirato oppure svalutato, ma vissuto, utilizzato. D'altra parte è da sempre che si dice che un monumento, se è abbandonato, nessuno se ne prende cura e quindi va in valore. Perché un monumento, o non un monumento, ma una costruzione a cui diamo valore sia conservata nel tempo, bisogna che sia usata, ma usata in modo corretto. Negli anni abbiamo fatto scempi, abbiamo ricavato cinema nelle chiese, abbiamo ricavato officine, abbiamo messo funzioni incompatibili con i crateri di edifici dove non dovevano essere messe, quindi anche questo richiede conoscenza, capacità, discernimento, scelte tecniche giuste e corrette. Perché io ho un altro timore, oltre a quelli che ha evidenziato Fabrizio, è che sì, questo nuovo interesse per il Medievo, nuovo, chiamiamolo così, anche se ce n'è stato a varie stagioni precedenti, non si basa su un'interpretazione univoca del Medievo. Tanto, come diceva Clario Di Fabio, un uomo del 1300 catapultato oggi in Piazza Campetto non si riconoscerebbe. Quello che chiamiamo Medievo è un frammento ormai incastonato in altri frammenti di epoche successive ed è quello con cui abbiamo a che fare. Non è che possiamo selezionare quattro pietre scolpite perché sono Medievo e fare qualcosa di dedicato solo a quelle quattro pietre. Il patrimonio va vissuto, conservato e, se vogliamo, valorizzato nel suo complesso. Anche perché il famoso problema dei turisti in Stradone di Sant'Agostino, all'ingresso del Dipartimento di Architettura, ogni tanto io vedevo uno strano signore vestito da monaco e una strana signora con vestito lungo, un po' stregonesco, e mi chiedevo, ma chi sono questi qui? Poi l'ho chiesto e mi è stato spiegato che sono pagati da Costa Crociere per accogliere i gruppi di turisti che arrivano alla piazza Sanzano, scendono alla Sanzano di Sant'Agostino e si trovano questi due personaggi che interpretano due, un signore, un monaco e una strega del Medievo, che li intrattengono per qualche minuto. Eh, sì, ma di questo passo diventeremo davvero Walt Disney Corporation. Abbiamo inaugurato il Museo di Sant'Agostino, o meglio, abbiamo fatto il primo passo per ridare alla città, benissimo, anche perché finalmente è possibile rivedere, anche grazie a Clario, cose che erano anni che erano invisibili. E poi c'è stato lo spettacolo dei musici, gli uomini in costume, va benissimo, abbiamo la sfilata delle repubbliche marinare, il sindaco veste le vesti più o meno storicamente filologiche del Doge al Confuego, ma tutto questo è proprio spettacolo e consumo, che non vorrei che distraessero dalla conoscenza vera e dall'apprezzamento vero di quello che è. Poi è vero, come dice il nostro moderatore, il ruolo di Genova probabilmente non è così conosciuto. Perché? Perché poi è stato subissato dal secolo d'oro dei genovesi, dal siglo d'oro, dal barocco, dai palazzi del Rolli. Perché? Perché lo sappiamo tutti, per mille e una ragione, sono forse anche merce più facilmente vendibili, più facilmente accessibili. Qui l'altro tema, se un patrimonio esiste, va conservato, va usato, va reso accessibile, quello che ci diceva Clario di Fabio, in effetti è assurdo che degli affreschi di quel tipo non possano essere visti perché, per pur un nobilissimo uso, la chiesa inferiore di San Giovanni di Pre, che peraltro ne ha viste di tutti i colori, negli anni fino ad 800 doveva essere trasformata in un cinema. Pensate, poi era suddivisa in vari ambienti, l'hanno liberata, eccetera. E qui veniamo all'ultimo slogan che lancio. Come ho detto nelle due sessioni che ho presentato, quello che chiamiamo la Genova medievale, è in realtà una collazione di frammenti, alcuni veri, genuini, mi è piaciuto molto il termine usato da Clario, non autentici ma genuini, che sono lì, oppure erano un po' più in lama, sono stati spostati, ma sono stati scolpiti, fatti, montati nel 1200, 1300, ma altri sono invece frutto dei restauri dell'Ottocento, che venivano giudicati molto ben fatti perché non si distingueva il nuovo simil vecchio dal vecchio vero e oggi forse abbiamo anche idee un po' diverse di restauro. Quindi il restauro deve farsi carico di questa pluralità di punti di vista. La storia non è una, non ci scegliamo la storia che ci piace e la storia viene conosciuta con la ricerca, con le smentite, con le conferme e tutto ciò è possibile fino a che quel patrimonio che è gran parte della storia, o meglio è la traccia materiale della storia che ci ha preceduto o delle molte storie che ci hanno preceduto, rimane, permane. E quindi anche il restauro è una responsabilità. Forse oggi bisogna evitare che anche gli interventi di restauro diventino come la processione delle repubbliche marinare, per cui vestiamo gli edifici di finti abiti medievali perché in questo momento vogliamo valorizzare la medievale. No, Genova dobbiamo capirla, io non sono genovese ma mi sono innamorato di questa città, il lotempore, così uso anche un'espressione latina, perché è straordinaria. Tanto straordinaria che i nostri colleghi di Milano ci dicono ma che fortuna hanno i vostri studenti di restauro perché vivono in un ambiente in cui lo stimolo alla conservazione del restauro è diffuso, è pervasivo a Milano è molto più difficile trovare qualcosa di vecchio che non sia il monumento singolo di cui prendersi cura. Però dobbiamo fare sì che loro imparino, i nostri studenti che saranno cittadini, lo sono già oggi, ma anche professionisti di domani e magari responsabili del governo della cosa pubblica, evitino di fare la geografia del medioevo, evitino di inventarsi per l'ennesima volta un medioevo inesistente. Perché sapete, viviamo in un'epoca di revisionismo storico, diciamocelo, che riguarda anche questa cosa. Il medioevo per un po' è stato considerato l'epoca buia, i secoli della dimenticanza della civiltà, della cultura, eccetera. Poi improvvisamente è diventato invece illuminato e la verità non sta né dall'una né dall'altra parte. Cioè pensate al mito di Alberto da Giussano e il carroccio trainato dai buoi che si ribella Federico II Barbarossa che invade l'Italia, il bel suolo italiano. Per un po' è stato inteso come il germe dell'esistenza di una unità dei popoli della penisola italiana che pur non essendo uniti in un'unica entità statuale, perché erano divisi tra Impero e Papato, Guelfi, Ghibellini, eccetera, avevano però una forma di governo assolutamente tipica della penisola italiana, i liberi comuni. Però qualcuno poi ha usato il carroccio di Alberto da Giussano per invocare un sovranismo campanilistico, il contrario dell'unità d'Italia. Quindi stiamo attenti a non utilizzare il patrimonio come arma letale anche sul piano politico oltre che culturale. Grazie. Grazie. Grazie Stefano Musso per il suo intervento. Sì, effettivamente è inevitabile Stefano poi che quando si rifletta del destino di una città ci si chieda un po' dove si vuole andare, partendo da un patrimonio straordinario dal punto di vista artistico, culturale, storico e con le tentazioni però del presente insomma di una città che comunque e comprensibilmente ci mancherebbe. Al turismo si vuole aprire. Noi non dobbiamo assolutamente pensare di chiuderci. Poi nel momento in cui tu ti apri devi decidere come governarlo e come usarlo, ecco, questo turismo. Nei luoghi che tu metti a disposizione, appunto, delle persone che scelgono di venire a visitarti, ti garantiscono anche attività commerciali, economiche. Ci mancherebbe tutto, tutto gestito però, come dicevamo prima, nel modo giusto. La Liguria purtroppo è piena di esempi in cui diventa sempre più difficile gestire il turismo. Io sarò nei prossimi giorni alle Cinque Terre. La preoccupazione per quest'estate, credetemi, è enorme. Le Cinque Terre sono spaventate dalla massa di turisti che sta per riversarsi in questo luogo straordinario, che però, se viene vissuto da decine di migliaia di persone nello stesso giorno, finisce per diventare invivibile. Alla fine di luglio riaprirà la Via dell'Amore alle Cinque Terre, credo sia uno dei luoghi iconici più belli al mondo. Ma come verrà gestito questo? Di fronte ai milioni di richieste di persone che vogliono venire a farsi una foto, un selfie sulla Via dell'Amore. Ecco, noi non arriveremo mai probabilmente a quello, però anche noi dobbiamo porci giustamente, come dicevano i nostri relatori, la domanda su come vivere il nostro approccio, il nostro rapporto con il turismo, inserendo in questa logica anche il Medioevo. Perché no? Assolutamente. Mostrando la bellezza, la forza del nostro valore, che non è soltanto chiese, dipinti, musei, palazzi, ma è un patrimonio archivistico straordinario. I nostri archivi sono unici, io credo, a livello europeo. Ce lo può sicuramente confermare anche il professor Stefano Gardini, che ringrazio e saluto docente di archivistica all'Università di Genova. Stefano, anche la parte archivistica che noi stiamo cercando, voi soprattutto, e poi chi fa comunicazione cerca di riproporre, di valorizzare il più possibile. Però è uno sforzo impegnativo, sicuramente. Altro che grazie per la parola. Dunque, premetto, è piuttosto complicato intervenire. Su un tema del genere, dopo due pezzi da 90 che mi hanno preceduto, soprattutto quando si è sostanzialmente in linea con la posizione e la visione. Perché se fossi portatore di un punto di vista, altro, sarebbe più semplice. Allora, un aspetto che secondo me è centrale dell'esperienza di Ateneum, che ho visto dal mio punto di osservazione sulla giornata, sul pomeriggio che abbiamo passato a parlare di documentazione medievale, ma che ho visto emergere anche nelle altre puntate a cui ho potuto veder parte, è qualcosa che ci ha ricordato Mark Bloch, appunto, me la cavo così, richiamo un maestro dei maestri, un grande. La storia è comunque sempre fatta per tracce e quindi per frammenti. Ora, il lavoro di mettere insieme tracce e frammenti è un lavoraccio. O perché sono troppo pochi e non si riesce a leggere in essi, o perché sono troppi e comunque percettivamente disorganici e quindi ci si perde. Ecco, per quanto riguarda le vicende documentarie del medioevo genovese, la fattispecie è più seconda della prima, dal dodicesimo in avanti ne abbiamo così tanti che è oggettivamente difficile raccapezzarsi. Ma la soluzione poi è sempre la stessa e secondo me è da un lato il punto di forza del ciclo che abbiamo voluto proporre e dell'approccio che l'Università di Genova ha avuto a questa esperienza, cioè quello della pazienza, quello di un ruolo di educazione alla complessità. Allora, è vero, è importante che si sviluppi una filiera di ricerca che possa anche avere e tradursi, diciamo, in aspetti rilevanti dal punto di vista turistico, commerciale, eccetera. Si capisce, insomma, sono passati i tempi del vertice del triangolo industriale e forse non li rimpiangiamo neanche del tutto, ecco. Per alcuni aspetti sì, per altri no. E quindi in qualche modo bisogna capire che strada vuol prendere la città e questa è una delle possibili strade. Però, appunto, per fare in modo che non sia una Disneyland declinata in termini barocchi o in termini medievali, quello che a mio avviso è necessario che passi è che sui percorsi di valorizzazione, anche a me il termine piace poco, non mi ha mai convinto più di tanto, ma chiamiamoli così perché il Codice dei beni culturali li chiama così e ci arrendiamo alla realtà. Sui percorsi di valorizzazione traghetti quest'idea, cioè che ciò che il turista viene a vedere non è una realtà, non è uno stato di fatto, è una rappresentazione, un racconto, una narrazione non necessariamente, sicuramente fondata su basi scientifiche, ma proprio per questo in qualche misura falsificabile, aggiornabile, esito di un faticoso lavoro. Ora, per carità, i figuranti in costume sono sempre simpatici, nulla da dire, possono dal punto di vista didattico assolvere egregiamente a delle funzioni comunicative che non sono io nessuno per smentirle, però l'importante è che passi appunto che qualunque elemento, che sia un documento pubblicizzato attraverso un post su Facebook o che sia un monumento, delle cognizioni emerse da uno scavo archeologico, insomma che in qualunque elemento di questa narrazione che si vuole costruire sia trasmesso con questo senso di non arrivo definitivo, perché questo è in fondo la ricerca scientifica, questo è il nostro mestiere e questo secondo me è il valore aggiunto che l'Università di Genova ha potuto dare a questa iniziativa che, per carità, con una guida solida e sicuramente molto efficace, avrebbe sicuramente portato dei risultati, ecco, dei risultati che però hanno bisogno anche, a mio avviso, di questi elementi che non sono sempre scontati, per carità, non solo l'Università è in grado di fare questa attività, ma se non lo fa l'Università viene da chiedersi chi è che possa farlo. Grazie, altro da aggiungere? Grazie, grazie Stefano, davvero. L'Università che lo fa con le sue missioni, insomma, la ricerca, lo studio, la terza missione che è l'engagement con il mondo esterno, in questo desiderio continuo di crescere. Ecco, riflettiamo sulle parole del professor Gardini, io mi fermavo ad ascoltarlo ed è davvero, ha ragione Stefano, è sempre davvero pericoloso quando si fanno necessariamente per forza delle similitudini quando si vuole arrivare ad un obiettivo. No, saremo come Disneyland, dobbiamo diventare come la Florida, dobbiamo fare delle nostre isole Capri, no, dobbiamo essere noi, dobbiamo essere Genova, dobbiamo essere la Liguria, non abbiamo bisogno di puntare ad alto, ma non per una forma snobistica, almeno questo io lo intendo e penso di condividere con voi questa riflessione, ma proprio perché è talmente ampio e vasto il patrimonio che noi abbiamo da offrire, che dobbiamo solo cercare di capire come farlo nel modo migliore. Ora io chiamo ad una riflessione il professor Di Fabio, non ti farò parlare della commenda perché so che è un tema che è un po' un nervo scoperto, ma che è un po' secondo me anche un paradigma di certe cose che accadono in queste città, un luogo magico, straordinario come la commenda, che diventa un contenitore di un'altra cosa altrettanto importante, come il Museo dell'Emigrazione, ci mancherebbe, noi siamo la Ellis Island italiana, va bene, ecco, poi magari bisognerebbe discutere se il contenitore è giusto per ospitare o una cosa di questo tipo, ma apriremo un'altra discussione. Ecco, allora ti chiedo, Clario, quale medioevo noi dovremmo cercare di proporre, cioè qual è il percorso ideale per rendere al meglio la forza e il valore del nostro medioevo? Ti rispondo, replicherò, replicherò dicendo una cosa che forse ti stupirà. Io credo che Genova sia stata il peggior nemico di se stesso e sia stato il peggior nemico di se stesso a partire dagli anni Sessanta. L'atto che secondo me ha sconvolto la dimensione della città è stato tra i tanti, per carità. ma quello che simbolicamente ha avuto l'impatto più grave, greve, è stata la sopraelevata. L'avere accettato di separare la città dal mare è una cosa che, a mio modo di vedere, è dissennata. Per una città come Genova, che, come dicono tutte le gazzette, è nata dal mare, dal mare ha ricevuto la sua ricchezza. Noi l'abbiamo tranciata. Ora, non c'è dubbio che scendendo dallo svincolo dell'autostrada, quando ci si inoltra sulla sopraelevata, è bello vedere a destra e a sinistra. Però, ed è anche vero che, alla metà dell'Ottocento, una parte della città non vedeva il mare, perché c'erano i terrazzi di marmo che impedivano, e quindi l'elegante monsieur e la profumata madame, vestiti alla parigina, camminavano sui terrazzi di marmo e guardavano un porto che era già altro dalla città. Beh, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è, avete visto recentemente una veduta zenitale del porto? Acqua ce n'è poca. Ci sono tante banchine, ma acqua ce n'è poca. C'è meno acqua nel porto di Genova oggi di quanto ce ne fosse nel porto di Genova medievale. No? Nell'Ottocento era tutto pieno. Scusate, sto... Però il problema è questo, il problema è questo, no? Ecco. Si è... questo è radicale. Cioè, questo è un elemento radicale che ci fa pensare in che modo si è affrontato il manufatto. E ci fa capire fino a che punto fosse rivoluzionario quello che negli anni settanta diceva un grande genovese che oggi tende a essere dimenticato, ma che ha riscoperto la città medievale di Genova, cioè Eniopoleggi, no? che quando ha detto, con uno slogan che non era che una constatazione, la città medievale esiste ancora. Che, come dire, oggi... Bella roba, no? Ci vuole... Ecco, ma dirlo nel 1974 non era la stessa cosa. Anche perché tutto ciò che connotava la città in termini medievali era percepito come un disvalore o come un non valore. Sì, no? Oggi noi vediamo la piazza della cattedrale quando non c'è troppa gente, ma insomma, vediamo la piazza della cattedrale e la consideriamo quel luogo un luogo pregiato, privilegiato, no? E vediamo i turisti che guardano con la bocca aperta cose che val la pena di guardare con la bocca aperta, no? Non delle stupidaggini o delle volgarità, ma cose... E' importante quando tu vedi che una guida che prima in genere era rappresentante di una categoria che raccontava sulla città delle balle spettacolari. E vedi che adesso invece è cambiata la musica e ci sono guide che fanno vedere ciò che si vede e riescono a, come dire, sunteggiare, a evocare anche ciò che non si vede più, ma che... E questo è un, come dire, un surplus, no? di una giunta di cultura. Si guarda la città in un modo diverso. Io ero, negli anni, primi anni Ottanta, avevo fatto parte della prima commissione per le guide turistiche, no? Abbiamo esaminato delle guide turistiche e quando è venuta una che ha detto... Io gli ho fatto una domanda... Lei ha 20 minuti per portare dei turisti in cattedrale. Lei entra dalla porta sinistra e che cosa fa vedere a questi turisti? Questa è stata un po' zitta, ma guardata mi ha detto... Eh, ma io sono di Camogli. Per altro genere è la città vicina a Portofino. Così, quello era... Ora, la città ha fagocitato molto se stessa, no? Lasciando compiere scempi che sono iniziati negli anni Cinquanta. Il palazzo di Sottoripa, che non è spreggevole sotto certi punti di vista, ma che lì sotto è veramente un vulnus, no? È un problema. L'ex palazzo della cassa di risparmio, volgare e arrogante, quanto quant'altri mai, piantato dentro al centro storico, senza dubbio sconvolgeva e sconvolge ancora adesso. Si potrebbe anche dire l'aver distrutto completamente il Carlo Felice, un Carlo Felice che esisteva, no? Che esisteva e che è stato trasformato. Cosa fatta a capo A? Ecco, non... Però non è che tutto quello che ci fosse in passato è meglio di quello che c'è adesso, per carità, come abbiamo appena finito a rivedere. Però la città è stata matrigna nei suoi propri confronti. E noi dobbiamo recuperare oggi, in una situazione in cui sul manufatto urbano sono, come leggiamo o sentiamo alla televisione, ci sono gravi pressioni e interessi spettacolari. per cui il dialogo fra la città, il porto, il mare diventa sempre più inquinato da aspetti che sono nelle cose, sono nella storia e nella cronaca, ma che dovrebbero essere messi al loro posto e funzionare per come dovrebbero e non per come non dovrebbero. Grazie. Grazie, professor Clario Di Fabio. Sì, è vero. Grazie. C'è un grande lavoro da fare, sicuramente, per capire effettivamente quale direzione vogliamo prendere gli spunti, anche ultimi offerti al professor Di Fabio sul tema della sopraelevata, su tutto quello che è stato demolito, insomma, follemente. Ecco, dicevamo prima sotto voce, ma ora lo condividiamo insieme al professor Musso. Ecco, noi però siamo in chiusura davvero e chiudiamo con il prorettore alla terza missione, Fabrizio Venente, perché questo progetto, dicevamo, che segna il suo punto di arrivo, poi si prepara sicuramente a ripartire, non c'è dubbio, in altro modo, ma c'è un tema forte che l'Università intende proporre, che è quello appunto proprio della terza missione, di dialogo con il mondo esterno per cercare di proporsi e di far sì che sempre più gente possa essere coinvolta nel dialogo stesso con l'Università. Io amo sempre ripetere questo, c'è molta più Università nella nostra vita quotidiana di quanto ci possiamo immaginare, è pieno, basta uscire e ci confrontiamo con tante cose che rimandano comunque alla nostra Università di Genova, così prestigiosa, così importante, e capace di formare davvero le persone che andranno a gestire questa città e questo Paese in futuro. Ecco, allora, Fabrizio, dovendo chiudere questo primo ciclo, che cosa possiamo dire? Due o tre riflessioni e anche l'apertura di un piccolo baule della memoria, ma anche dei desideri. Allora, la prima riflessione, essenzialmente l'esperienza fatta ci insegna che la collaborazione con Repubblica, la collaborazione con l'Ateneo, i due libri usciti, 20.000 copie distribuite gratuitamente ai lettori di Repubblica necessitano forse, visto che abbiamo parlato delle Mirabili a Urbis, visto che abbiamo parlato di Genova, un terzo volume, a chiusura dell'anno, in cui guardiamo alle altre Genova, in cui ci impegniamo a guardare all'espansione di Genova verso il Mediterraneo, verso il Mar Nero, verso l'Oltremare, e a guardare come un gruppo sociale che aveva necessariamente un territorio montano, come diceva Mannoni, e un mare aperto davanti ha fatto del mare un ponte per arrivare altrove e lì ricostruire sistemi, meccanismi, economie, commerci e da lì riportare conoscenze, culture, saperi, contaminazioni, culturali, sociali, religiose. Ecco, questo direi che è uno degli obiettivi che ci diamo per dicembre. Ecco, così ho già dato una piccola fregatura impegnando... Volevo aspettare a dirlo, ma insomma... Impegnando il caporedattore di Repubblica e alcuni dei colleghi. Secondo aspetto, Genova medievale, artistica, Genova che parla tramite le sue sculture, le sue pitture, i suoi resti archeologici, le sue architetture, i suoi documenti scritti. È una Genova che necessita un bel progetto di condivisione con i cittadini, costruzione della scienza con i cittadini, così come va di moda molto... come va molto di moda oggi, e crescita collettiva della conoscenza, in modo che siano i cittadini i veri custodi del sapere, diventino i veri custodi del sapere, contribuiscano con la loro consapevolezza a indirizzare, condizionare e orientare le scelte politiche che non possono mai essere unilaterali. noi viviamo in una realtà, Genova e la regione Liguria, che per anni non ha avuto un passaggio che sembrerà polemico, ma è pratico e pragmatico, un assessore alla cultura. E io, o lui, o ciascuno di noi, o ciascuno di coloro che occupano e lavorano nel mondo dei saperi, quando dobbiamo parlare di politiche culturali, abbiamo bisogno di interlocutori politici, diretti, individuabili, chiari, nel pieno carico delle loro responsabilità, soprattutto quando facciamo progetti. Ed è diversamente difficile trovarsi a dialogare con un tavolo tecnico che non decide. Ecco, questo è un altro aspetto, scusate se mi sono toccato un aspetto duro di politica culturale, ma, visto che siamo in un momento che necessariamente porterà a un cambiamento politico, magari l'esigenza di un ottimo assessore alla cultura comunale, un ottimo assessore alla cultura per la regione, ci potrebbero fornire quelle interlocuzioni che tutto il mondo dei saperi sta chiedendo da mesi, anni. Questo è un passaggio un po' polemico, ma me lo dovete consentire. Apro il baule delle speranze. Il baule delle speranze è che quel percorso di formazione delle guide sapienti, capaci, dei facilitatori culturali, che in qualche modo è stato iniziato dall'università grazie a un'opera, direi, meritoria, università e in parte comune, un'opera meritoria di Giacomo Montanari in relazione al progetto Rolli. Ecco, questo processo di formazione non solo delle guide, ma dei comunicatori, e che è stato anche attivato nell'ambito dell'anno del Medioevo, dovrebbe diventare un progetto abbastanza fisso, continuo, di avvio verso una professione che una città come questa necessita. Per paradosso varrebbe per mille altre cose, varrebbe per l'editoria, per i libri, per la musica, per quegli spazi di cultura che questa città produce negli angoli, negli angoli riproduce e a volte sono fantastici. Cito ad ultimo un bellissimo concerto di Federico Sirianni e di una cantautrice di cui non ricordo il nome, me ne pento, fatto in chiusura dell'anno accademico di Unige Senior che mi ha insegnato come veramente l'arte, la musica, la cultura in questa città si respirano negli angoli, negli spazi e va dato megafono. Ecco, questa è un'altra esigenza. Forse tutto questo, la moneta buona scaccia a quella cattiva, forse tutto questo se ben valorizzato limita, limita fortemente il folklore, la cultura intesa come folklore, come sbandieratori, come balestrieri, come uomini e donne in strani costumi, forse basta l'arte, basta il sapere, basta la condivisione della conoscenza negli spazi giusti che sono gli spazi della città in modo da farla rivivere, riviverla nel centro storico ma anche riviverla nelle delegazioni che hanno la loro storia. Ultimo passaggio, l'università. L'università di Genova è l'università della Liguria. In quattro anni siamo saliti da 32.000 a 38.000 studenti, circa 4.000 persone che lavorano, una comunità universitaria di circa 40.000 persone, una piccola città, una città che vive dentro la città e che ha un ruolo nelle politiche, nel dibattito, nel confronto, nella costruzione e, attenzione, soprattutto ha un ruolo e un portato di ragazzi che hanno meno di 30 anni. Ecco, forse una voce più attenta in una realtà come Genova in cui i baccan, i vecchi, gestiscono le economie, una voce più attenta alle proposte e alle idee delle generazioni più giovani, forse può essere quella chiave di lettura, quel modo per vivere veramente, trasformare veramente questa città in una città universitaria, in una città multiculturale e anche in una città multitemporale, multietà, perché si può studiare, produrre sapere e godere del sapere a qualsiasi età. Vi ringrazio e vi scuso se sono stato lungo. Grazie al proiettore dell'università Fabrizio Benente, grazie a Clario Di Fabio che vi ha intrattenuto prima sulla Genova di Pinta e che poi si è fermato con noi, grazie a Stefano Francesco Musso, Stefano Gardini, a tutti voi per essere restati con noi a parlare di questi temi, questo baule della speranza che è sempre opportuno tenere aperto e condividere in un dialogo quotidiano, affinché si possa davvero arrivare a valorizzare al meglio il nostro straordinario patrimonio medievale che è fatto di tante cose, di arte, di cultura, di architettura, di archivistica, di archeologia, cioè potremo restare davvero qui a parlarne ancora a lungo ma ci fermiamo perché presto avremo altri appuntamenti, altri momenti da condividere insieme. Grazie a tutti, buonasera. Grazie. 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 Grazie.